Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sui social, sembra che il rapporto tra Lino e la tentatrice Maika sia in crisi. L'influencer Alessandro Rosica ha svelato che la tentatrice avrebbe detto cose molto pesanti su Lino, arrivando addirittura a provare ribrezzo nei suoi confronti. In risposta a chi le chiedeva se fosse realmente interessata al partenopeo, Maika avrebbe dichiarato che in realtà non è affatto attratta da lui, ma partecipa al programma solo per soldi e visibilità. Rosica ha aggiunto che Maika avrebbe confessato di provare disgusto nel frequentare Lino e che molte altre tentatrici la penserebbero allo stesso modo. Sembrerebbe che la ragazza stesse cercando da tempo un modo per entrare nel mondo dello spettacolo e della televisione e che grazie al rapporto con Lino nel programma ci sia riuscita. L'esperta di gossip Dejanira Marzano ha rivelato che Lino potrebbe già frequentare un'altra donna, confermando così la fine della relazione con la sua ex Alessia e con la tentatrice Maika. Resta da vedere come evolverà la situazione e se verranno alla luce ulteriori dettagli su questa domenica. Grazie a tutti.